Ciao a tutti, mio nome è Luca e sono parte di un gruppo di pescatori che sono dedicati all'esplorazione dei nostri oceani. L'idea dietro questo, excepto di essere la nostra passione principale, è di provare a dare questo passaggio, questa storia che abbiamo, un nuovo futuro. E abbiamo cercato di fare questo usando nuove tecnologie o in qualche modo documentando tutto ciò che facciamo e cercando di sharelo con il mondo. Questa prima serie è rinforzata i progetti 2018 che abbiamo fatto. Penso che è certo di cominciare la serie da un'esplorazione che è particolarmente conosciuta, almeno per me o per noi, che è il Cesare Rossarol. Non solo perché è vicino e che è stato il nostro sito di allenamento per molti anni, ma anche perché questo anno è il 100 anniversario del risultato del risultato. E durante questo l'esplorazione c'è stato un progetto che è stato dedicato principalmente alla commemorazione di questi 100 anni del risultato. La prima volta che ho spavato la Rossarol è stata durante la mia classe del Tec 1. È stata una delle mie prime esperienze nella distanza di 50 metri. Quindi ero abbastanza animato ma anche concentrato. Stavamo spavato la sterna, che è la parte più interessante del risultato, con molti dettagli e cose da vedere. Ma in base, mi ricordo che non avevo mai visto una scuola e la forma del risultato. E' quello che mi ricordo di quella prima volta. Anche quando arrivavamo alla superficie per il debriefing, ho avuto Mario, il mio insegnatore, a quel momento, chiedendo, ah, ho visto la ruota, ho visto la scuola, ho visto questo e questo. E ho solo guardato lì e ho detto, non potrebbe essere che tutto questo risultato era in questa scuola. Quindi ho promisato a me stesso di andare all'arrivo e lo vedere con gli occhi diversi. E questo è quello che ho fatto per molte volte nei prossimi anni. E poi mi ricordo la prima volta che abbiamo cercato di collegare la sterna e la bau. con la linea. E abbiamo iniziato da l'arrivo. E eravamo senza scuotere, quindi abbiamo deciso di iniziare la scuola, iniziare a sviluppare nella direzione della bau. E ho cercato di trovare l'arrivo. Dopo circa 45-50 minuti, quasi 50 minuti di tempo basso. e quando stavamo quasi perdendo, abbiamo visto la ultima parte di una scuola sull'arrivo. Quindi abbiamo iniziato a seguire la scuola. E finalmente questa scuola ci ha portato all'arrivo. che è vicino alla scuola della bau. e la scuola della scuola. La scuola della scuola. e la scuola della scuola della scuola. e la scuola della scuola della scuola. Durante la prima scuola, abbiamo anche notato che nel medio, tra i due ragazzi, ci sembra di essere una area promissima, perché c'era un po' di cose all'interno. e quindi siamo tornati nel stesso posto dopo qualche settimana e abbiamo trovato che c'era davvero molto più di quello che abbiamo visto in questa prima scuola. Abbiamo trovato una parte abbastanza consistente della scuola, una parte abbastanza grande. Molto metallo rompito e metallo bandato. E abbiamo trovato che questa era probabilmente la scuola della scuola che era esattamente nel posto dove l'esplosione sull'inverno. Questo ha dato l'opportunità ad altri gruppi che seguivano, e in particolare al progetto Rossarol, che seguono nei prossimi anni, per investigare meglio tutta quella area e per cercare di metterla in una modo più migliore. Per questo anno, l'idea è di portare un monumento. Sì, abbiamo un monumento di memoriale per i 100 anni di scuola, per il SSR Rossarol. E noi vogliamo mettere la scuola vicino, vicino alla scuola della scuola vicino, proprio nella scuola della scuola. E abbiamo una presentazione per fare per il 3D model. Il 3D model è stato fatto da Mike, certo? Da Mike, sì. Mike Postons, di 3D Media, che ha aiutato con la rendita e con le datate che abbiamo collezionato. Abbiamo il plan di stagione dell'esplosione, ma il plan di stagione non è la stagione dell'esplosione dell'esplosione. Quindi abbiamo dovuto controllare se le cose in posizione. Alla prossima per l'esplosione delle scuola, come da l'esplosione per il PTC. L'esplosione del PTC. questa è stata un bel guello. Questo è stata una buona la scuola. L'esplosione delle scuola. L'esplosione della scuola. È stato un bel guello per l'esplosione. Si è andato un gullo. È molto divertente, there should be a wreck somewhere there is not there was nothing I knew where they placed it yes, but just because you have been there 100 times otherwise I wouldn't have found it no, I saw a dark so when I left the wreck I went down I saw that dark shiny thing that must be the monument and it's there so that's good that would be great tonight Anzaldo. Anzaldo. Potete vedere la tipica italiana bronce star all'interno. Anzaldo.